ciao a tutti e bentornati sul canale come potete vedere vi presento il secondo spacchettamento di oriflame del catalogo di ottobre ho preso giusto praticamente due cosine ma perché mi piacevano c'erano dei due set molto interessanti e quindi vediamo i prodotti ovviamente qua c'è la fattura qua troviamo i prodottini come vedete non sono tanti però comunque allora qua troviamo uno spray per i capelli quindi per le sia per le doppie punte che per da applicare sui capelli e da 150 ml ed è questo qua la cc air airx eccola qua questa poi questo alcuni prodotti erano in un altro supplementino e ho preso questo appunto da un altro supplemento questo bagno doccia al questi questo bubble butt da 750 ml e questo se non sbaglio dovrebbe essere il gelsomino se non erro ve lo farò sapere comunque ve lo farò sapere deve essere molto buono bel boccettone bello grosso eccolo qua poi qua troviamo i due set allora che adesso se mi ricordo come sono poi abbiamo questi due set quindi abbiamo questo qua che è una saponetta buonissima frost berry cake ed è così praticamente ve la faccio vedere qua sul catalogo ed è così fatta molto molto carina e troviamo la la crema a mani da 75 ml poi qui abbiamo un'altra saponetta al maccaron love quindi a forma di maccaron sempre da 75 grammi e qua troviamo sempre la crema a mani della maccaron love da 75 ml poi ho preso non mi ricordo poi se se l'ho ordinati io mi ricordo o me l'hanno mandati loro in omaggio ma non penso penso che l'ho ordinati io sinceramente e questo è un esfoliante shower gel alla menta e raspberry ragazze purtroppo io non me li ricordo come sono comunque sembra un mirtillo ma è la ribes se non sbaglio mirtillo e ribes questo è da 250 ml e mi sembra che questo era un set e questo è da 200 ml e la lozione per il corpo sempre menta e mirtillo e ribes scusate ok come vedete i prodotti sono pochi io come sempre vi aspetto al prossimo spacchettamento un bacio a tutti alla prossima ciao ciao